Il senatore Maurizio Gasparri si è scagliato contro Rocco Schiavone, un poliziotto di una fiction in onda sulla RAI in prima serata, in quanto facendo uso di marijuana inciterebbe i giovani all'uso di droghe e li porterebbe sulla cattiva strada. Ed io sono assolutamente d'accordo con lui, motivo per cui ho una serie di proposte per migliorare la programmazione cosicché i nostri bambini non siano influenzati da tutto il marciume politicamente corrotto. Allora, i tachimetri di Fast and Furious dovranno essere rivisti e censurati affinché rispettino i limiti di velocità sulle strade interurbane. Per quanto riguarda tutte le telenoveli tipo Beautiful, dovranno essere censurate e tolte dalla programmazione tutte le puntate in cui i protagonisti tradiscono i loro partner. Per finire, cosa più importante, Gomorra dovrà essere rigirata con l'uso di Super Liquidator. Volevo anche far ridoppiare il trono di spade anziché dire vino o dire succo alla pera, però poi ho pensato che le nostre eccellenze ne avrebbero risentito.